sto guardando qui con maraviniere venuto gianni morandi e parlano tutto di festival dopo festival e gianni morandi e forte è proprio forte una canzone moderna ma io qui ho fatto dolce cari miei amici ora vi faccio vedere fatto dolce con quattro ingredienti con pochi ingredienti ora tiro fuori ecco qua mandorle sopra questo dolce così semplice morbido proprio morbido si è cresciuto bene bene ho fatto questo dolce con pochi ingredienti perché io dolce non mangio a colazione sempre qualcosa diciamo salato però ogni tanto ho voglia di dolce e per non buttarsi sul dolce di carnavale che ho comprato in questi giorni che è buoni ma troppo pesanti e fritti e troppo pesanti questo panorama e oggi domenica è fatto questo dolce che mi durerà cinque giorni pezzettino dopo pranzo pezzettino dopo pranzo e basta tutta roba genuina roba integrale dato due ova mandorle sopra farina di avena pochino farina integrale olio extravergine e basta così non passa nessuno silenzio la gente riposa prima passava tanta gente ora poca gente qualche macchina passa è così allora vi saluto alla prossima alla prossimo mio video così una semplicità genuina un abbraccio a tutti